A quale concerto sei venuto e cosa ti è piaciuto? Allora, sono venuto all'ultimo, al cortile, che è stato molto carino, sono stato un po' di sfuggita, poi a Largo Rispighi, che spesso mi pare, è fantastico, quindi posso dire venite chi vuole, che è veramente forte, Federico, Ghiatti Ordo, veramente, firmato Alberto, proprio così, Alberto Randazzo, proprio firmato, esatto, un nome siciliano, però anche se sei Lombardo, Lombardo, anche se faccio lettere a Bologna, è una barzelletta, però vera, ti fa capire quanto prezzi, Mezzosangue, nordico, siculop, che faccia lettere, però che viene ai tuoi concerti, quindi io posso dire che sia la potesi dell'Italia, nord-sud, comunque convergendo culturalmente, siamo qua, però mi devi permettere che, se d'ora in poi...